La moneta porta fortuna Nota di Stephen King Nell'autunno del 1996 ho attraversato gli Stati Uniti del Maine, alla California, sulla mia Harley Davidson, facendo tappa in varie librerie indipendenti per promuovere un romanzo intitolato Insomnia. È stato un viaggio stupendo. Forse il momento più memorabile è stato quando, seduto sotto il portico di un negozio abbandonato del Kansas, ho guardato il sole tramontare a ovest e la luna piena sorgere a est. Ho pensato a una scena del romanzo Il Principe delle Maree di Pat Conroy, in cui accade lo stesso, e un bambino esclama rapito, oh mamma fallo ancora. In seguito, nel Nevada, mi sono fermato per la notte in un hotel fatiscente in cui le cameriere lasciavano sul cuscino qualche gettone da due dollari per le slot machine. Accanto ai gettoni c'era un biglietto che recitava più o meno, ciao, sono Marie, buona fortuna. Mi è venuta in mente questa storia. L'ho scritta a mano sulla carta da lettere dell'hotel. Che razza di bastardo! esclamò nella camera d'albergo ormai vuota, più per la sorpresa che per la rabbia. Poi, era fatta così. Darlene Pullen si mise a ridere. Sedette sulla sedia accanto al letto sfatto e abbandonato, con la moneta in una mano e la busta da cui era caduta nell'altra, facendo correre lo sguardo tra le due e ridendo finché le lacrime non le sgorgarono dagli occhi e presero a scenderle lungo le guance. Pazzi, la figlia maggiore, aveva bisogno dell'apparecchio per i denti. Darlene non aveva la minima idea di come pagarlo. Ed era una settimana che quel pensiero la tormentava. Se quella non era la goccia che faceva traboccare il vaso, allora che cos'era? E se non poteva ridere, che cos'altro le restava da fare? Prendere una pistola e spararsi? Ciascuna delle ragazze aveva un posto particolare dove lasciare l'importantissima busta, che chiamavano Biscottiera. Gerda, la svedese che aveva fatto la via in centro prima di trovare Dio, l'estate prima a un raduno religioso a Tahoe, la poggiava a un bicchiere del bagno. Melissa la metteva sotto il telecomando. Darlene la poggiava sempre al telefono e quella mattina, entrando, quando aveva trovato la busta della 322 sul cuscino, aveva capito che il cliente le aveva lasciato qualcosa. Certo, come no? Un sandwich di nickel ripieno di rame, un quarto di dollaro in God We Trust, come diceva il motto sulla moneta. La sua risata, che a poco a poco si era smorzata in un risolino, esplose di nuovo con forza. Sull'avanti della busta era stampato un breve messaggio, oltre al logo dell'hotel. Il profilo di un uomo a cavallo sulla sommità di un canyon, racchiuso in un rombo. Benvenuti a Carson City, la città più accogliente del Nevada. E benvenuti al Ranchers Hotel, l'albergo più accogliente di Carson City. La vostra stanza è stata messa in ordine da Darlene. Per qualsiasi necessità, premete il tasto 0 e provvederemo in un battibaleno. Se siete soddisfatti del servizio e voleste lasciare una piccola mancia alla cameriera, vi invitiamo a servirvi di questa busta. Ancora una volta, benvenuti a Carson e benvenuti al Ranchers. William Havery, il capo carovana. Spesso la biscottiera era vuota. Darlene aveva trovato buste stracciate nel cestino, accartocciate in un angolo, come se l'idea di lasciare una mancia alla cameriera avesse fatto infuriare qualche cliente, oppure gettate nella tazza del water, ma a volte conteneva una piccola sorpresa. Soprattutto se le slot machine o i tavoli da gioco erano stati generosi con un cliente. E il 322 aveva fatto buon uso della sua busta. Le aveva lasciato un quarto di dollaro. Buon Dio! Con quello avrebbe pagato l'apparecchio di pazzi e anche preso quella console Sega che Paul voleva con tutto il cuore. Non avrebbe nemmeno dovuto aspettare Natale. Poteva essere un regalo per il giorno del ringraziamento, disse. Certo, perché no? E pagherò anche la TV via cavo, così non saremo costretti a rinunciarci, dopo tutto, e aggiungeremo pure Disney Channel e finalmente potrò andare dal dottore per la schiena. Merda, sono ricca! Riuscissi a trovarla, signore, mi metterei in ginocchio e le bacerei i piedi, giuro! Neanche a pensarci. Il 322 se n'era andato da un pezzo. Il Ranchers probabilmente era davvero l'hotel migliore di Carson City, ma i clienti non si fermavano mai più di un giorno o due. Quando Darlene entrava dalla porta di servizio alle 7 del mattino, si stavano alzando, si irradevano, facevano la doccia, qualcuno cercava di rimediare i postumi di una sbronza. Mentre lei era nell'area riservata al personale con Gerda, Melissa e Jane, la responsabile delle pulizie, dotata di formidabili tette a punta e di labbra tumide dipinte di rosso. Prima a bere il caffè e poi a sistemare il carrello, preparandosi per la giornata. Camionisti, cowboy e rappresentanti di commercio saldavano il conto, dopo aver messo qualcosa nella busta biscottiera, oppure niente. Il 322, un vero gentiluomo, ci aveva infilato un quarto di dollaro e probabilmente le aveva lasciato anche un regalino sulle lenzuola, per non parlare di un paio di souvenir nel water, perché sembrava che certe persone non riuscissero proprio a smettere di dare, era nella loro natura. Darlene sospirò, si asciugò le guance con l'orlo del grembiule e aprì del tutto la busta. Il 322 si era addirittura preso il disturbo di sigillarla e lei l'aveva strappata a un'estremità nella fretta di vedere che cosa contenesse. Voleva rimetterci dentro la moneta, ma poi si accorse che conteneva anche qualcos'altro, un biglietto scarabocchiato su un foglio di block notes. Lo prese. Sotto il logo, con l'uomo a cavallo e la scritta un pensiero dal ranch, il 322 aveva scritto dieci parole con una matita spuntata. Questa, con la c al posto della q, è una moneta porta fortuna. È senza l'accento. Davvero, con una v. Fortunata a te. Bene, bene. Ho due figli e un marito che sono cinque anni che non torna a casa da lavoro. Un po' di fortuna mi farebbe comodo. Giuro, se Dio mi farebbe proprio comodo. Poi rise di nuovo, solo un accenno, e lasciò cadere la moneta nella busta. Andò in bagno e sbirciò nella tazza del water. Dentro c'era solo acqua limpida, ed era già qualcosa. Sbrigò le sue faccende, che non le richiesero molto tempo. Il quarto di dollaro era una trovata di cattivo gusto, pensò Darlene. Ma a parte quello, il 322 era stato abbastanza educato. Niente chiazze né macchie sulle lenzuola. Niente sorpresine sgradevoli. In almeno quattro occasioni nei suoi cinque anni di lavoro come cameriera, i cinque anni trascorsi da quando Dick l'aveva lasciata, aveva trovato chiazze ancora umide di quello che poteva essere solo sperma sullo schermo del televisore. E una volta una pozza di urina puzzolente in un cassetto. Nessun oggetto rubato. Doveva solo rifare il letto, pulire il lavandino e la doccia e sostituire gli asciugamani. Mentre provvedeva, si chiese che aspetto avesse il 322, che tipo d'uomo lasciasse 25 centesimi di mancia a una donna che cercava di crescere due figli da sola. Una persona spiritosa e allo stesso tempo crudere, riflette. Un uomo che probabilmente aveva le braccia coperte di tatuaggi e somigliava al personaggio di Woody Harrelson nel film Assassini Nati, Natural Born Killers. Non sa niente di me, pensò mentre usciva nel corso. corridoio e si chiudeva la porta alle spalle. Probabilmente era ubriaco, gli sembrava uno scherzo divertente, è tutto qui, ed era davvero divertente in un certo senso, altrimenti perché avresti riso? Già, perché aveva riso? Mentre spingeva il carrello fino alla 323, pensò che avrebbe regalato la monettina a Paul. Dei suoi due figli, Paul era quello che di solito finiva per avere la peggio. Aveva sette anni, era taciturno e sembrava soffrire di un raffreddore perenne. Darlene pensava che fosse l'unico bambino minacciato da un asma incipiente nell'area limpida di quella cittadina in mezzo al deserto. Sospirò, ed entrò nella 323 con il passepartout, pensando che forse nella biscottiera avrebbe trovato 50 dollari o persino 100. Era quasi sempre il suo primo pensiero mentre entrava in una stanza. Ma la busta era esattamente dove l'aveva lasciata, appoggiata al telefono e anche se controllò per sicurezza, sapeva che sarebbe stata vuota. Infatti, era così. Il 323 le aveva lasciato un regalino nel water, però. Guarda, guarda, la fortuna comincia già a scorrere, disse Darlene e si mise a ridere mentre tirava lo sciacquone. Era fatta così. C'era una macchina a mangiasoldi, solo una, nella hall del ranchers e benché Darlene non l'avesse mai usata nei cinque anni in cui aveva lavorato lì, quel giorno, mentre andava a pranzo, si infilò una mano in tasca, toccò la busta strappata a un'estremità e si diresse all'improvviso verso quella chiappagon sicromata. Non si era scordata che aveva intenzione di dare a Paul quella moneta, ma ormai, per i bambini, un quarto di dollaro non voleva niente e come stupirsene. Non ci si poteva comprare nemmeno una misera bottiglia di Coca-Cola e tutto d'un tratto desiderò solo liberarsi di quella maledetta cosa. Le faceva male la schiena per chissà quale motivo non aveva digerito il caffè delle dieci e si sentiva disperatamente depressa. All'improvviso il mondo aveva perso il suo splendore e le sembrava tutta colpa di quella misera monetina, come se dalle profondità della tasca emanasse piccole scariche di vibrazioni negative. Gerda uscì dall'ascensore appena in tempo per vedere Darlene piantarsi davanti alla slot machine, prendere la busta e lasciarsi cadere la moneta nel palmo della mano. «Tu!» esclamò Gerda. «Tu! No, mai, non ci credo. Sta a guardare!» disse Darlene e infilò la moneta nella fessura con la scritta «Inserire uno, due o tre monete». Ormai è andata. Fece per allontanarsi, poi, come ripensandoci, si voltò quanto bastava per azionare la leva della macchina. Si voltò di nuovo senza nemmeno guardare i rolli che giravano e così non vide i campanelli posizionarsi nelle finestrelle. Uno, due e tre. Si fermò solo quando sentì che le monete iniziavano a piovere nel vassoio sul fondo della macchina. sbarrò gli occhi poi li so chiuse con espressione sospettosa come se quello fosse un altro scherzo o forse la battuta conclusiva del primo. «Hai finto!» esclamò Gerda con un accento svedese reso più marcato dall'emozione. «Darlene, hai finto!» sfrecciò accanto a Darlene che rimase immobile dov'era ascoltando la cascata di monete che si riversavano nel vassoio. Quel suono sembrava non finire mai. «Fortunata me!» pensò. «Fortunata! Fortunata me!» finalmente le monete smisero di cadere. «Oh santo cielo! Santo cielo! E pensare che questa stupida macchina non mi ha mai dato un soldo dopo tutte le monete che ci ho messo! Questa sì che fortuna! Ci saranno quindici dollari, Darl! Pensa se ci mettevi tre monete!» «Non avrei retto a tanta fortuna!» rivelò Darlene. Le veniva da piangere. Non sapeva perché ma era così. sentiva le lacrime bruciarle all'angolo dell'occhio come un acido debole. Gerda l'aiutò a raccogliere le monete dal vassoio e dopo che le ebbe messe in tasca che le ebbe messe in tasca la divisa di Darlene rimase comicamente tutta sghemba. L'unico pensiero che le passò per la mente fu che avrebbe dovuto comprare qualcosa di bello per Paul un giocattolo. Quindici dollari non bastavano per la console Sega che voleva neanche lontanamente ma forse sarebbero stati sufficienti per uno di quegli aggeggi elettronici che guardava sempre nella vetrina di Radio Shack al centro commerciale senza chiedere. Tanto sapeva che era inutile era malaticcio ma non per questo stupido fissandoli soltanto con occhi che parevano sempre infiammati e acuosi. Col cavolo che lo farai li metterai da parte per prendere un paio di scarpe ecco che cosa oppure per quell'accidente di apparecchio per pazzi a Paul non dispiacerà e lo sai? No a Paul non sarebbe dispiaciuto ed era quello il brutto pensò passando le dita tra le monete che le pesavano in tasca sentendole tintinnare sì stava male per lui Paul sapeva che le barchette le automobiline e gli aeroplanini radiocomandati nella vitrina del negozio erano irraggiungibili come le console Sega e tutti i giochi che ci si potevano fare per lui quelle cose esistevano per essere godute solo con l'immaginazione come i quadri di una pinacoteca o le sculture di un museo per lei invece beh forse dopo tutto gli avrebbe preso una piccola sciocchezza con quel godagno inaspettato una sciocchezza carina per sorprenderlo per sorprendere anche se stessa sorprese anche se stessa certo e come quella sera decise di tornare a casa a piedi invece di prendere l'autobus a metà di North Street entrò nel casino Silver City dove non aveva mai messo piede in vita sua al banco dell'hotel aveva cambiato le monete in banconote in tutto ammontavano 18 dollari e ora sentendosi come un ospite nel suo stesso corpo si avvicinò al tavolo della roulette e tese le banconote al croupier con una mano totalmente priva di sensibilità e non era solo la mano tutti i nervi sotto la superficie della pelle sembravano morti quasi che quel comportamento improvviso e aberrante le avesse fatti saltare come fusibili sovraccarichi non ha importanza si disse mentre collocava tutti i 18 anonimi gettoni rosa da un dollaro nello spazio su cui era scritto dispari è solo un quarto di dollaro nient'altro qualsiasi cosa sembri su quel tappeto di feltro è solo il brutto scherzo giocato da chissà chi ha una cameriera a cui non avrebbe mai dovuto rendere conto è solo un quarto di dollaro e tu stai solo cercando di liberartene perché si è moltiplicato e ha cambiato forma ma emette ancora vibrazioni negative rien ne va plus rien ne va plus cantinellò il croupier mentre la pallina girava in senso contrario a quello della roulette la pallina cadde rimbalzò rallentò e Darlene chiuse gli occhi per un istante quando li riaprì mentre la roulette smetteva di girare vide che si era fermata nella casella del 15 il croupier spinse verso di lei altri 18 gettoni rosa che le ricordavano le caramelle canada mince compresse Darlene li raccolse e li puntò tutti di nuovo sul rosso il croupier la guardò con le sopracciglia inarcate chiedendole senza una parola se fosse sicura lei annui e lui fece ripartire la roulette quando uscì il rosso lei spostò sul nero la pila sempre più abbondante di gettoni poi sul dispari poi sul pari dopo l'ultima giocata davanti a lei c'erano 576 dollari e la sua mente era volata su un altro pianeta davanti a sé non vedeva gettoni neri verdi rosa non proprio vedeva un apparecchio per i denti e un sottomarino radiocomandato fortunata me pensò Darlene Pullen oh fortunata fortunata me puntò di nuovo i suoi gettoni tutti quanti e dalla folla che si raduna sempre attorno a chi azzecca all'improvviso una serie di vincite in una città che vive di gioco d'azzardo anche le 5 del pomeriggio si levò un mugolia un mugolio signore signora non posso autorizzare questa puntata senza il consenso del direttore di sala dichiarò il croupier ora sembrava decisamente più sveglio di quando Darlene si era avvicinata al tavolo con indosso la divisa di Ryan a righe bianche e blu aveva puntato i soldi sulla seconda dozzina i numeri da 13 a 24 ti conviene chiamarlo gioia disse Darlene e attese calma i piedi ben piantati sulla madre terra lì a Carson City nel Nevada a 11 chilometri dal luogo in cui nel 1878 era stata aperta la prima grande miniera d'argento la mente perduta nelle profondità delle miniere di deluminio del pianeta Chombadiddle mentre il direttore di sala e il croupier si consultavano e la folla attorno a lei murmurava alla fine il direttore di sala le si avvicinò e le chiese di scrivere nome indirizzo e numero di telefono su un foglietto rosa Darlene fece come le veniva chiesto e intanto notò con interesse che la sua scrittura non sembrava quasi più la sua si sentiva calma calma come il più calmo minatore di deluminio che fosse mai vissuto ma le tremavano forte le mani il direttore di sala si voltò verso Mr. Roulette e roteò le dita falla girare ragazzo stavolta il rumore della pallina bianca risuonò con chiarezza intorno al tavolo da gioco sulla folla era sceso un silenzio assoluto e la puntata di Darlene era l'unica sul tappeto quella era Carson City non Monte Carlo e per Carson si trattava di una puntata mostruosa la pallina rimbalzò cadde in una casella saltò via ricadde in un'altra poi saltò via di nuovo Darlene chiuse gli occhi fortunata pensò pregò fortunata me una mamma fortunata una ragazza fortunata la folla mugolò in preda all'orrore o all'estasi fu così che Darlene capì che la roulette aveva rallentato abbastanza da permettere di leggere il risultato aprì gli occhi sapendo che finalmente aveva perso il suo quarto di dollaro e invece non era così la pallina bianca si era fermata nella casella del 13 nero oh mio dio tesoro disse una donna dietro di lei dammi la mano voglio toccarti la mano Darlene gliela tese e sentì qualcuno prenderle piano anche l'altra prenderla e accarezzarla da un luogo molto molto lontano dalle miniere di deluminio in cui stava vivendo quella fantasia sentì che prima due persone poi quattro sei otto le sfregavano piano le mani sperando che la sua fortuna le contagiasse come il virus del raffreddore mister roulette spingeva verso di lei pile e pile di gettoni quanto? chiese lei con voce flebile quant'è? mille settecento ventotto dollari rispose lui congratulazioni signora se fossi in lei ma non sei me voglio puntare tutto su un numero quello lo indicò il venticinque dietro di lei qualcuno emise un grido soffocato come durante un orgasmo fino all'ultimo centesimo no disse il direttore di sala ma no ripete lui e dopo aver lavorato per gli uomini per quasi tutta la vita darlin sapeva quando intendevano esattamente quello che avevano detto politica della sala missis pullen e va bene e va bene caga sotto riavvicinò a sei gettoni facendo a crollare qualche pila quanto mi permette di puntare mi scusi disse il direttore di sala scomparve per quasi cinque minuti nel frattempo la roulette rimase ferma nessuno rivolse la parola a darlin ma le toccarono più volte le mani e a volte le sfregarono come se fosse svenuta quando il direttore quando il direttore di sala tornò con lui c'era un uomo alto e calvo con indosso uno smoking e occhiali cerchiati d'oro più che guardare darlin parve perforarla con lo sguardo 800 dollari ma lo sconsiglio fissò gli occhi sulla divisa di darlin poi li sollevò per guardarlo di nuovo in faccia credo che le convenga incassare la vincita signora e io credo che non hai capito proprio un cacchio bello ribatte darlin e la bocca dell'uomo alto e calvo si serrò in una smorfia di disgusto lei puntò lo sguardo su mister roulette fallo mister roulette mise sul tavolo una fiche su cui spiccava la cifra 800 dollari e la posizionò con attenzione in modo che coprisse il numero 25 poi fece partire la roulette e lanciò la pallina l'intero casino era mutuolito era cessato persino il tintinio insistente delle slot machine darlin alzò gli occhi verso il fondo della sala e non si stupì nel vedere che la parete di schermi su cui prima scorrevano le immagini di corse di cavalli e di incontri di pugilato mostrava ora la roulette che girava e lei sono diventata anche una star della tv fortunata me fortunata me oh quanto sono fortunata la pallina roteò rimbalzò parve fermarsi poi ripresa a roteare un minuscolo derviscio bianco che danzava sulla superficie di legno lucido della roulette le probabilità esclamò all'improvviso quante sono le probabilità trenta uno rispose l'uomo alto e calvo ventiquattromila dollari in caso di vittoria signora darlin chiuse gli occhi e li riaprì nella tre due due era ancora seduta sulla sedia con la busta in una mano e la moneta che vi era caduta fuori nell'altra le guance erano ancora bagnate dalle lacrime che le erano scese mentre rideva fortunata me disse e aprì la busta per guardarci dentro nessun biglietto rientrava anche quello nella sua fantasia errori di ortografia compresi con un sospiro darlin infilò la moneta nella tasca della divisa e iniziò a pulire la tre due due invece di portare a casa Paul come faceva di solito dopo la scuola Pazzi lo portò all'hotel gli cola il naso a litri spiegò alla madre con voce intrisa di un disprezzo che solo una tredicenne riusciva a distillare in tale quantità fra poco ci si strozza ho pensato che forse volevi portarlo dal dottore Paul la guardò in silenzio con occhi acuosi e pazienti aveva il naso rosso come la striscia di un bastoncino di zucchero erano nella hall non c'era nessun cliente al banco dell'accettazione e Mr. Avery Tex per le cameriere che odiavano l'onanimità quel coglioncello si era allontanato probabilmente era in ufficio a menarselo ammesso che riuscisse a trovarlo Darlene posò il palmo sulla fronte di Paul sentì il calore che ardeva sotto pelle e sospirò mi sa che hai ragione ammise come ti senti Paul bene disse Paul con voce distante e cavernosa anche Pazzi sembrava depressa se continua così morirà prima di arrivare a 16 anni disse il primo caso di AIDS spontaneo nella storia del mondo chiudi quella boccaccia esclamò Darlene in tono molto più brusco di quanto intendesse ma fu Paul a sembrare ferito sussultò e distolse lo sguardo da lei ed è anche un frignone continuò Pazzi con aria sconsolata cioè sul serio no non è vero è soltanto sensibile e ha poca resistenza alle malattie frugò nella tasca della divisa Paul la vuoi questa lui tornò a guardarla vide la moneta e fece un flebile sorriso che ci farai Paul gli chiese Pazzi mentre lui la prendeva inviterai fuori Derdor McCausland penserò a qualcosa farfugliò Paul con voce nasale lascialo stare disse Darlene riesci a non tormentarlo per un po' ti spiace? sì ma a me cosa dai chiese Pazzi l'ho portato fin qui senza che gli succedesse niente e lo faccio sempre quindi a me cosa dai l'apparecchio pensò Darlene se mai me lo potrò permettere e all'improvviso fu sopraffatta dalla tristezza dalla sensazione che la vita fosse una fredda e vasta montagna di rifiuti un cumulo di scorie di deluminio volendo sempre incombente sempre pronta a crollare addosso alle persone riducendole in brandelli urlanti prima di schiacciarle sotto il suo peso la fortuna era un'illusione anche la buona sorte era solo sfortuna con indosso il vestito delle feste mamma mamma mamina pazzi parve all'improvviso preoccupata non voglio niente stavo solo scherzando sai se vuoi ho un numero di sassi disse Darlene l'ho trovata in una delle mie camere l'ho messo nell'armadietto di questo mese chiese pazzi in tono sospettoso proprio di questo mese vieni erano a metà del locale quando sentirono il suono della moneta che cadeva l'inconfondibile scatto metallico della leva e il fruscio dei rulli mentre Paul azionava la slot machine accanto al banco brutto stupido adesso sì che sei nei guai esclamò pazzi non dava l'impressione di essere troppo dispiaciuta quante volte ti ha detto la mamma di non buttare via i soldi con quelle cose le slot machine sono per i turisti ma Darlene non si voltò neppure rimase ferma a guardare la porta che riconduceva al mondo delle cameriere dove le giacche da due soldi comprate da Ames e da Walmart erano appese l'una accanto all'altra come sogni consunti e abbandonati dove il tempo continuava a ticchettare dove l'aria sapeva del profumo di Melissa e della pomata contro i dolori di Jane rimase ad ascoltare il fruscio dei rulli rimase in attesa di sentire le monete cadere tintinnando nel vassoio e quando iniziarono a scendere stava già pensando che poteva chiedere a Melissa di tenerle i bambini mentre andava al casino non ci avrebbe messo molto fortunata me pensò e chiuse gli occhi nel buio dietro le palpebre il rumore delle monete che cadevano sembrava molto forte parevano scorie metalliche che cadevano sul coperchio di una bara sarebbe successo proprio quello che aveva immaginato in qualche modo ne era certa eppure l'idea della vita come un enorme mucchio di scorie e un cumulo di metallo freddo ed estraneo non l'abbandonava era come una macchia indelebile che si sapeva che non si sarebbero mai riusciti a togliere dal proprio vestito preferito eppure Pazzi aveva bisogno dell'apparecchio Paul aveva bisogno di andare dal medico per quel raffreddore cronico e quegli occhi perennemente acquosi aveva bisogno di una console sega come Pazzi aveva bisogno di biancheria intima colorata che la facesse sentire insolita e sexy e lei aveva bisogno di di che cosa di che cosa aveva bisogno che tornasse Dick certo che torni Dick pensò quasi ridendo rivolrei lui come rivolrei indietro la pubertà o i dolori del travaglio ho bisogno beh niente sì era proprio così niente di niente zero il vuoto adios giorni neri notti vuote e una vita vissuta ridendo non ho bisogno di niente perché sono fortunata pensò con gli occhi ancora chiusi dalle palpebre abbassate stillarono le lacrime mentre dietro di lei Pazzi gridava squarciagola oh merda oh brutto moccioso hai vinto il jackpot puli accidenti hai vinto il jackpot fortunata me pensò Darlene fortunata oh quanto sono fortunata e con questo racconto ragazzi abbiamo finito il libro di Stephen King tutto è fatidico con questo racconto l'intero libro da oggi in poi lo potete trovare tutto intero su youtube una parte lo registrate io e una parte è stata registrata da Lorenzo Loreti vi ringrazio se avete ascoltato fino a qua lasciatemi nei commenti l'emoji della monetina vi ricordo di condividere questo video se vi è piaciuto con le persone che secondo voi potrebbero apprezzare questo racconto di cliccare sul mi piace di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto e anche alle mie pagine social facebook e instagram dovrei aprirne forse anche una su tiktok non lo so vi ricordo che su instagram potete trovare generalmente la mattina le live in diretta mentre io registro questi racconti che porto con il format no edit se come me non lavorate di mattina e avete piacere di guardarmi nella mia pagina instagram random audiolibri ho finito le cose da dire vi ringrazio tantissimo se mi volete davvero tanto 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 bene potete anche cliccare sul cuoricino con il dollaro per un super grazie quale sarà il prossimo libro no edit sicuramente un'altra antologia di racconti di steven king potrei cominciare scheletri oppure notte buia senza stelle oppure quell'altro che si intitola non mi ricordo vabbè comunque ci vediamo al prossimo no edit con un altro racconto di steven king ciao